buonasera a tutti il terzo oggetto morto e splendido di cui parliamo oggi è il silenzio che evidentemente come dicevo in uno degli interventi precedenti non è un oggetto da nessun punto di vista lo si voglia osservare ma è molto importante lo stesso e proverò a dirvi perché dentro gli oggetti morti che descrivono le nostre mutazioni come siamo cambiati in questi in questi ultimi decenni il silenzio è molto importante per me è stato una specie di oggi di punto di confine parlare del silenzio del rumore credo che c'entri molto con la nostra tendenza alle modificazioni e penso che sia anche uno di quelli di quei campi francamente poco studiati per lo meno negli ultimi anni pensate all'importanza che hanno le notifiche nella nostra vita quotidiana sono una specie di interruzione del silenzio che abbiamo accettato pedissequamente delle quali tutto sommato non sappiamo molto questo magari ci tornerò dopo perché il silenzio è un oggetto pur non essendolo per due ragioni principali la prima è una ragione banale che è uno dei motivi per cui quando ho cominciato a scrivere questo libro il silenzio è stato ben presente fin dall'inizio ed è una specie di idea di confine provo a spiegarla meglio un giorno mia figlia che ha allora aveva forse 16 anni aveva come molti adolescenti gli auricolari nelle orecchie io le ho chiesto qualcosa e lei come molti adolescenti come lei si è tolta le cuffie un po' infastiditi ha detto ma che c'è cosa vuoi e io non mi ricordo qual era la questione che le stavo dicendo però mi colpì una frase perché io dissi ma cosa stai facendo e lei mi disse sono qui in silenzio che penso agli affari miei era una forma di silenzio da molti punti di vista inedita eppure una forma di silenzio che esiste cioè quella di magari avere gli auricolari magari avere la musica ma essere comunque in un altro luogo e questo se ci pensate accade continuamente accade regolarmente senza che noi ce ne accorgessimo anzi per molto tempo abbiamo correttamente devo dire associato l'idea del silenzio all'idea della meditazione l'idea del pensiero che si approfonda nelle questioni più importanti della nostra esistenza e perché questo succedesse lo dicono le religioni lo dicono i filosofi perché questo succeda il silenzio è una specie di condizione necessaria per poter capire chi si è e allora che succede quando il silenzio non c'è più quando diventa qualcosa di meno importante ecco questo per cui il filtro del silenzio o della fine del silenzio nelle nostre attività quotidiane secondo me è un oggetto molto importante e una quota della sua modificazione nel tempo il fatto che da un certo punto di vista grossolanamente parlando si è andato riducendosi per ovvie ragioni che conosciamo a partire anche dalla radio della televisione proprio per questa ragione diventa una cartina importante attraverso la quale guardare la nostra società che si modifica questo in generale perché quando ho cominciato a immaginare cosa significasse come si modificasse il silenzio intanto sono stato di fronte a una doppia scelta e cioè il silenzio non è uno solo c'è una specie di silenzio assoluto e devo dire questo questa idea mi si è chiarita anni fa leggendo un libro che tra l'altro è stato tradotto anche in italiano recentemente che si chiamava appunto silence un libro di bloomsbury un piccolo librino di un editore inglese nel quale l'autore che si chiama john bigane a un certo punto raccontava dell'esperienza delle persone dentro le camera necoica la camera necoica la camera necoica è una specie di ambiente nel quale ogni ogni tipo di rumore viene cancellato e l'esperienza drammatica degli esseri umani dentro la camera necoica è una cosa che io non conoscevo e che mi colpì moltissimo dentro questi ambienti gli esseri umani faticano a rimanere quelli che resistono di più riescono a resistere 45 minuti poi il senso di fastidio di estraneità di difficoltà li costringe intanto a stare seduti perché c'è una specie anche di vertigine molto strana ma li costringe soprattutto ad uscire e mi colpì questa cosa e pensavo alla contrapposizione con Francesca che cioè mia figlia che si concentra con la musica nelle orecchie e pensavo che tutto sommato non era una contraddizione pensavo che forse il punto sul quale noi dobbiamo ragionare non è più il fatto che il silenzio sia una condizione di assenza ma che il silenzio come poi di fatto è e come questo è il motivo per cui secondo me da un punto di vista filosofico è un tema che andrebbe molto approfondito c'è un silenzio che è quello quotidiano che è quello che fa rumore nel senso che c'è un sottofondo naturale alla nostra vita e che questo sottofondo è per noi indispensabile allora se questo è il punto di partenza e credo che questa cosa sia la stessa camera anecoica ce lo dice che noi abbiamo bisogno di una sorta di sottofondo musicale che magari è semplicemente il rumore del termosifone in lontananza e come questi rumori sono cambiati nel tempo come si sono trasformati sono diventati più forti sono diventati più frequenti diventa una maniera forse inedita ma comunque importante per capire dove stiamo andando ho scoperto successivamente che già negli anni 40 sempre per l'idea che nulla nasce e tutto è sempre esistito John Cage che è un famoso importante musicista americano fece la medesima esperienza entrò dentro una camera anecoica non ricordo bene se dell'esercito insomma fece un esperimento quasi scientifico e provò le stesse sensazioni di grande estraneamento e grandi difficoltà che tutte le persone provano quando si trovano in un ambiente nel quale l'unico rumore presente è quello che nasce dal proprio corpo persone nelle camere anecoiche ascoltano il proprio cuore battere ascoltano il flusso del proprio sangue nelle vene anzi le arterie probabilmente ascoltano lui dice sbagliandosi perché un tecnico in quell'occasione gliela spiegò così ma non era vero il l'attività elettrica dei propri delle proprie terminazioni nervose del cervello ascoltano tutto qualunque cosa purché ci sia qualcosa che possa essere ascoltato questo allora questa questa cosa era talmente importante che qualche anno dopo lui scrisse una canzone molto canzone è un termine diciamo un brano musicale molto famoso che si chiama quattro minuti e 33 secondi che peraltro esiste potete andare a molto fra virgolette ascoltarlo su una qualunque piattaforma di streaming ed è sono quattro minuti e 33 secondi divisi in tre movimenti anche qui non prendete l'espressione letteralmente nei quali non succede assolutamente niente sono quattro minuti e 33 secondi di silenzio è possibile che Cage avesse già capito allora che la musica di quel brano era il rumore che circonda le persone nel momento in cui stanno in silenzio e questo se ci pensate è una intuizione straordinaria da un punto di vista non soltanto musicale ma assolutamente filosofico negli anni 50 ci fu perfino una rappresentazione in teatro a new york di questo brano un serioso professore d'orchestra salì sul palco di fronte al pubblico si aprì il pianoforte rimase quattro minuti e 33 secondi in silenzio davanti al pubblico e poi si alzò e segnalò questa cosa del silenzio come ambiente come posto indispensabile per la nostra vita mi ricordava ed è infatti citato nel capitolo e soprattutto l'idea di mia figlia di essere lasciata in silenzio a pensare agli affari suoi mentre ha la musica nelle cuffie proprio per questo il silenzio diventa un confine mi ricordo mi ricordo una cosa che sociologicamente molto importante che accadde quando negli fine anni 90 inizio degli anni 2000 anzi forse un po più avanti negli stati uniti nacque uno dei primi social network molto importanti che si chiamava myspace dentro myspace noi le cose più interessanti di myspace le sappiamo attraverso il lavoro di una sociologa americana che si chiama dana dana boyd e dana boyd spiegò che non è che myspace fosse questo posto così meraviglioso per gli adolescenti che lo utilizzavano in massa non è come facebook oggi facebook oggi è un luogo per anziani allora in quegli anni myspace era un posto nel quale si trovavano i più giovani il punto fondamentale di myspace è che era un luogo adatto alle loro esigenze di avere un confine nei confronti della società della vita familiare del mondo degli studi avere un luogo loro e questo questa idea del di un posto nel quale essere al riparo da tutta una serie di impulsi più o meno positivi che vengono dalla società ma un luogo autenticamente proprio nel momento in cui a differenza dei decenni precedenti non esistevano più i luoghi di aggregazione fisica e quindi le città diventavano insicure ci sono moltissimi automobili e quindi insomma c'erano tutta una serie di condizioni per cui i ragazzi avevano meno posti nei quali trovarsi fisicamente ecco che un social network diventava il confine fra loro stessi e gli altri la stessa cosa succede quando una ragazza adolescente si isola con gli auricolari del proprio del proprio smartphone crea un luogo che sia un luogo fondamentalmente su proprio mi sono scritto una frase di libretto anche un filosofo francese che si è occupato molto di silenzio negli ultimi anni e lui a un certo punto in uno di questi saggi che ha scritto per mimisi sono dei libretti piccoli molto carini dice che il rumore protegge dalla brutalità del mondo è una definizione che da molti punti di vista ci aiuta in questo senso nel senso che ci fa capire che noi abbiamo comunque bisogno di delimitare le nostre esperienze perché il silenzio è così importante è importante perché è molto si è modificato molto negli ultimi anni mentre un tempo lo associavamo ad attività assolutamente creative culturali oggi diventa il sottofondo della nostra vita e questo è un tema che abbiamo bisogno di approfondire perché il sottofondo della nostra vita è di fatto la nostra vita e quindi per quello che una canzone come quella di john cage è in canzoni sempre un termine improprio il brano di john cage è un brano così importante cos'è cambiato di fatto in maniera così importante nei nostri probabilmente dell'ultimo decennio per quanto riguarda il rumore è cambiato il silenzio è cambiato che noi oggi siamo in una società dove l'interruzione delle nostre attività e quindi diciamo interruzione di quello che una volta chiamato silenzio è diventata la regola e la interpretazione filosofica di questo tipo di limitazione è il fatto che siamo diventati meno intelligenti abbiamo meno capacità di concentrazione facciamo fatica a leggere un libro in termini come dire di assoluta concentrazione e questo rende le nostre vite da un certo punto di vista peggiori ora il punto è siamo sicuri che questo sia davvero il punto centrale non è semplicemente che il silenzio è diventato qualcosa che sia semplicemente modificato magari è aumentato di entità ma comunque è lo stesso il sottofondo della nostra vita che mantiene le stesse prerogative e questo è estremamente difficile da capire perché nel momento in cui le nostre abitudini cambiano e quindi noi abbiamo da un punto se vogliamo continuare a parlare delle questioni acustiche abbiamo una serie di sottofondi che si sono modificati magari diventano sempre più importanti dobbiamo capire se questa è una cosa che peggiora la nostra vita oppure no molte volte di fatto semplicemente le modifica allora per esempio negli anni 70 negli anni 80 negli anni 90 si è detto che in maniera piuttosto prevedibile che la televisione la radio diciamo i media in generale avrebbero compromesso la nostra capacità di analisi di approfondimento dei temi lo stesso discorso si fa oggi e per questo il discorso del silenzio che fa rumore molto importante nel momento in cui noi viviamo nell'era delle notifiche l'era delle notifiche è un luogo nel quale la nostra vita è caratterizzata ogni tanto ogni breve intervallo di tempo da un piccolo suono che ci segnala che la nostra attenzione deve rivolgersi altrove ora questa cosa ovviamente ha come come sempre una prima interpretazione assolutamente come dire pessimistica direi quasi intuitiva se io sarò continuamente interrotto molto probabilmente l'attività che sto facendo in quel momento non sarà così ben fatta come poteva succedere in tempo nello stesso tempo è successo anche un fenomeno di riduzione dentro questa cosa per esempio gli adolescenti quando hanno cominciato a utilizzare il smartphone la prima cosa che hanno fatto è stato quello di spegnere la suoneria che ricordo mia figlia da piccola per per noi genitori era inconcepibile ma nessun ragazzo usa più la suoneria del telefono poi hanno smesso di utilizzare le telefonate nessuno usa più il telefono il mondo è punteggiato di piccoli attività quotidiana la giornata è punteggiata di piccoli segnali e questi segnali possono o non possono essere in qualche maniera seguiti e questa è una variazione significativa del di quello che nel capitolo chiamo il silenzio che fa rumore e quindi noi siamo in una condizione del quale abbiamo una disposizione sempre maggiore ad essere disturbati e questa disposizione fa parte della nostra vita la domanda importante che dobbiamo farci tutti oggi ed è probabilmente il motivo per cui questo capitolo è fatto è se questa diciamo invasione chiamiamola così se questa capacità di poter essere interrotti di poter essere aggrediti da un certo punto di vista dalle notifiche dai suoni della nostra vita ma anche dei suoni della vita attorno a noi devono o non devono in qualche maniera essere contingentati se mia figlia per usare l'esempio iniziale può in qualche maniera isolarsi dal mondo pur ascoltando eminem in cuffia mentre è accanto a me e sta pensando a qualcos'altro abbiamo bisogno di un pensiero non convenzionale sul sul silenzio e non c'è dubbio che oltre a un certo limite nel capitolo ci sono alcuni esempi uno addirittura datato un esempio degli anni della mia adolescenza quando in spiaggia nella riviera romagnola c'erano questi enormi altoparlanti che durante la mattinata diffondevano informazioni pubblicitarie e ci sono tuttora in realtà ultimamente sono stati utilizzati di meno perché hanno qualche forma di dissesto finanziario ma la vita del silenzio che fa rumore della spiaggia e vale a dire i suoni delle persone nell'ombrellone accanto oppure i bambini che giocano sulla spiaggia tutti i suoni della vita erano pesantemente attaccati da questi altoparlanti che ci spiegavano che quali quali fossero i prodotti da acquistare ecco questo è un esempio per dire che noi abbiamo bisogno di trovare un nuovo equilibrio fra la nostra idea assoluta di silenzio che evidentemente non esiste più è un'idea contemporanea di silenzio che preveda una sorta di incremento del volume del sottofondo del perché la tecnologia fa in modo che il sottofondo rumoroso della nostra vita sia sempre più significative significativo questo bilanciamento è probabilmente un'idea di modernità ed è per questo che è un tema filosofico molto importante che ovviamente io non sono in grado di approfondire troppo ma che secondo me nei prossimi anni sarà importante che sia approfondito mi viene in mente l'ultimo esempio che è quello che chiunque abbia viaggiato un po conosce ed è quello che in molti grandi aeroporti in giro per il mondo questa idea di non invadere troppo lo spazio acustico dei passeggeri che magari sono stanchi al jet lag o cose di questo tipo è stata affrontata penso a Parigi penso a Istro a Londra c'è un'attenzione nel lasciare una sorta di silenzio che fa rumore delle singole persone senza invaderlo con informazioni suoni rumori che sono supplementari questo crea una condizione un ambiente nel quale le persone possono gestire autonomamente la propria vita anche nei confronti di tutto quello che è l'impulso acustico è un capitolo indispensabile per uno come me che ha sempre detestato qualunque fondo di rumore quindi c'è qualcosa di un po' barboso e infastidito certamente nella mia valutazione dei rumori ma il punto fondamentale è che oggi esiste un silenzio che fa rumore ed è un silenzio che è la misura della nostra contemporaneità e questo è il motivo per cui è un oggetto che un po' è morto e un po' no come quasi tutti gli oggetti di questo libro grazie a tutti